Peschici e le isole Tremiti vedranno sventolare la bandiera blu. I due comuni del Parco Nazionale del Gargano esultano per questi importanti riconoscimenti che arrivano in un anno difficilissimo per il turismo. Il Covid-19 non ha fermato l'ONG danese FI che ha premiato anche quest'anno lo sforzo delle amministrazioni con una cerimonia digitale. Non basta il mare per aggiudicarsi il vessillo blu ma serve un sistema di servizi riassunto in 32 criteri che la giuria nazionale valuta in modo sempre più dettagliato. Tra questi la raccolta differenziata, la gestione dei rifiuti pericolosi, le spiagge dotate di tutti i servizi e di addetti, accessibilità per disabili, una buona rete turistica e alberghiera, senza dimenticare anche una particolare attenzione all'educazione ambientale. Criteri per i quali sono state confermate anche quest'anno le spiagge di Peschici, Spinale, Gusmai, Baia di Calalunga, Baia di Manacora, Baia San Nicola, Procinisco e Baia di Peschici, nonché la spiaggia Cala delle Arene di San Domino sulle isle Tremiti.